salve a tutti sono francesco samani un altro video sulla prova preselettiva concorso 2020 allora il test dice questo un solo pasticcere prepara cinque torte in due ore e mezza punto quanti pasticceri dovrebbero lavorare virgola allo stesso ritmo virgola per preparare 12 torte in un'ora e mezza punto interrogativo 4 risposte a b c di 3 5 6 4 vediamo come risolve l'esercizio allora se un pasticcere impiega due ore e mezza a preparare cinque torte in un'ora e mezza vediamo quante ne prepara quindi facciamo una proporzione 2,5 sta a 5 come uguale 1,5 sta ad x quindi il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli esterni da cui segue che x è uguale a 5 per 1,5 diviso 2,5 che è uguale a 7,5 diviso 2,5 che è uguale a 3 di conseguenza se in un'ora e mezza un pasticcere prepara tre torte per preparare in un'ora e mezza 12 torte sono necessarie quindi 12 diviso 3 uguale a 4 4 pasticcere la risposta giusta è la D non vi arrabbiate per come scrivo lo faccio solo per motivi di tempo vi auguro un caro saluto se vi è piaciuto il video o ne volete di altri lasciate i commenti mettete un mi piace iscrivetevi e condividete il canale ciao a tutti buona giornata ciao